Di Victor Hugo, I Miserabili. Voce di Lorenzo Pieri. Parte quarta. L'idiglio di Rue Plumet e l'epopea di Rue Saint-Denis. Libro terzo. La casa di Rue Plumet. Capitoli primo, secondo e terzo. Capitolo primo. La casa a sorpresa. Verso la metà del secolo scorso, un primo presidente del Parlamento di Parigi, che avendo un amante voleva tenerla nascosta, poiché allora i signori ostentavano le loro amanti, ma i borghesi le nascondevano, fece costruire una casetta nel Faubourg Saint-Germain, nella solitaria Rue Plumet, che oggi si chiama Rue Plumet, non lontano dalla località che allora si chiamava Combattimento degli Animali. Questa casa era composta ad un padiglione a un sol piano, di due sale al pian terreno, due camere al primo piano, una cucina in basso, un saluttino in alto e di un solaio. Il tutto preceduto da un giardino con una grande cancellata che dava sulla strada. Il giardino misurava uno iugero circa. Questo era quanto i passanti potevano intravedere. Ma dietro al padiglione c'era uno stretto cortile. È in fondo ad esso un fabbricato basso, costituito di due locali sopra una cantina. Una specie di nascondiglio, destinato ad occultare all'occorrenza una baglia e un bambino. Quel fabbricato comunicava sul retro, per mezzo di una porta nascosta che si apriva con una serratura a combinazione, con un lungo e tortuoso corridoio pavimentato, a cielo aperto, fiancheggiato da due alti muri e nascosto con un'arte prodigiosa e come perduto tra i recinti del giardino, dei quali seguiva tutti gli angoli, e che andava a finire a un'altra porta, anche questa con serratura a combinazione, che si apriva ad un ottavo di lega più in là, quasi in un altro quartiere, all'estremità solitaria della rue Babilon. Il signor presidente entrava di là in modo che anche coloro che lo avessero spiato e seguito e che avessero osservato che il presidente si recava tutti i giorni misteriosamente da qualche parte, mai avrebbero potuto sospettare che andare in rue Babilon significava andare in rue Blommet. Grazie ad abili acquisti di terreni, l'ingegnoso magistrato era riuscito a fare tutti quei lavori di passaggi segreti in casa sua sulla propria terra, senza nessun controllo quindi. In seguito aveva rivenduto, pezzo per pezzo, a uso di giardino o di orto, tutti i terreni confinanti con il corridoio, e i proprietari di quei lotti di terra dalle due parti credevano di avere davanti agli occhi un muro di confine, e non sospettavano neppure l'esistenza di quella lunga striscia pavimentata che serpeggiava tra due muri, tra le loro aiole e i loro frutteti. Solo gli uccelli vedevano quella curiosità, ed è probabile che le capinere e le cinciallegre abbiano molto chiacchierato sul conto del signor presidente. Il padiglione, costruito in pietra secondo lo stile mansard, decorato e ammobiliato in stile watteau, rococò all'interno e antiquato all'esterno, circondato da una triplice siepe di fiori, aveva qualcosa di discreto, di civettuolo e di solenne, come si addice ad un capriccio dell'amore e della magistratura. Quella casa e quel corridoio, oggi spariti, esistevano ancora una decina di anni fa. Nel 93 un calderaio aveva comprato la casa per demolirla, ma non fu in grado di pagarne il prezzo, e ciò l'aveva fatto fallire, in modo che fu la casa a demolire il calderaio. La casa, da allora, rimase disabitata e lentamente cadde in rovina, come tutte le dimore alle quali la presenza dell'uomo non comunica più la vita. Era rimasta arredata con i suoi vecchi mobili, e sempre in vendita o in affitto, come le 10-12 persone all'anno che passavano per via Plumet potevano vedere in un cartello giallo e illeggibile, appeso dal 1810 alla cancellata del giardino. Verso la fine della restaurazione, quegli stessi passanti potevano notare che il cartello era scomparso, e perfino le persiane del primo piano erano aperte. La casa, infatti, era occupata. Le finestre avevano le tendine, segno che c'era una donna. Nel mese d'ottobre 1829 si era presentato un uomo di una certa età e aveva preso in affitto la casa così com'era, ivi compresi, beninteso, il fabbricato posteriore e il corridoio che conduceva in Rue Babilon. Aveva fatto riparare le serrature a combinazione delle due porte del passaggio. La casa, come abbiamo detto, era ancora arredata con i vecchi mobili del presidente e il nuovo inquilino aveva ordinato qualche riparazione. Aggiunto qua e là ciò che mancava, ripavimentato il cortile, sostituito qualche mattone al pavimento, qualche gradino alla scala, qualche tavola ai parquet e vetri alle finestre, e alla fine ci si era installato con una giovinetta e un'anziana domestica senza far rumore, piuttosto come uno che si introduca che come uno che entri nella propria casa. I vicini non fecero chiacchiere, anche perché non ce n'erano. Quel locatario, così poco chiassoso, era Jean Valjean e la fanciulla era Cosette. La domestica, una zitella che Jean Valjean aveva salvato dall'ospedale e dalla miseria, era vecchia e balbuziente e queste tre qualità avevano deciso Jean Valjean a prenderla con sé. Egli aveva affittato la casa sotto il nome di Fauch-le-Vent, possidente. Nel nostro racconto precedente, il lettore ha certo tardato meno di Thénardier a riconoscere Jean Valjean. Perché Jean Valjean aveva lasciato il convento del Petit Picpus? Che cosa gli era capitato? Non era successo niente. Come si ricorderà, Jean Valjean era felice al convento, tanto felice che la sua coscienza finì con l'inquietarsi. Egli vedeva Cosette ogni giorno, sentiva nascere in sé e svilupparsi sempre più il sentimento della paternità. Covava con l'anima quella fanciulla e si diceva che era sua, che nulla avrebbe potuto togliergliela, che sarebbe stato così per sempre e che ella si sarebbe fatta monaca, dato che ogni giorno era dolcemente incoraggiata a farlo e che in tal modo il convento era ormai l'universo per lei come per lui, che egli sarebbe invecchiato là dentro e lei cresciuta e che ella vi sarebbe invecchiata ed egli morto, che egli aveva infine la dolce speranza che non si sarebbe mai separato da lei. Riflettendo su questo fatto, cominciò a venirgli qualche perplessità. Si interrogò, si chiese se tutta quella felicità fosse proprio sua, se non si componesse della felicità di un altro, della felicità di quella bambina che egli, vecchio, confiscava e rubava. Non era forse un furto quello che stava commettendo. Si diceva che quella bambina aveva il diritto di conoscere la vita prima di rinunciarvi, che toglierle anticipatamente e in qualche modo senza consultarla tutte le gioie col pretesto di salvarla dalle sventure, approfittare della sua ignoranza e del suo isolamento per farle germogliare una vocazione artificiale, sarebbe stato uno snaturare una creatura umana e mentire a Dio. E chissà che un giorno, rendendosi conto di tutto questo e monaca a malincuore, Cosette non avrebbe finito per odiarlo. Ultimo pensiero, quasi egoista e meno eroico degli altri, ma che gli riusciva insopportabile. Allora decise di abbandonare il convento. Si risolse a ciò, riconobbe con decisione che tale determinazione era necessaria. Quanto a obiezioni, non ve n'erano. Cinque anni di soggiorno fra quelle quattro mura e di sparizione avevano necessariamente distrutto o disperso ogni elemento di timore. Poteva ritornare tra gli uomini tranquillamente. Era invecchiato e tutto era mutato. Chi l'avrebbe riconosciuto ora? E poi, alla peggio, c'era pericolo soltanto per lui ed egli non aveva diritto di condannare Cosette al chiostro per il fatto che egli era stato condannato alla galera. Del resto, cos'è il pericolo di fronte al dovere? Infine, nulla gli vietava di essere prudente e di prendere le sue precauzioni. Quanto all'educazione di Cosette, era quasi terminata e completa. Una volta presa quella decisione, aspettò l'occasione che non tardò a presentarsi. Il vecchio Fauchelevent morì. Jean Valjean chiese udienza alla reverenda Priora e le disse che avendo ricevuto alla morte del fratello una piccola eredità che gli permetteva ormai di vivere senza lavorare, lasciava il servizio al convento e conduceva con sé la figlia. Ma che siccome era giusto che Cosette, non pronunciando affatto i voti, fosse stata allevata gratuitamente, supplicava umilmente la reverenda madre di permettergli di offrire alla comunità come indennizzo per i cinque anni che Cosette aveva passato al convento la somma di 5.000 franchi e così Jean Valjean uscì dal convento dell'adorazione perpetua. Lasciando il convento prese egli stesso sotto il braccio e non volle affidare a nessun fattorino la valigetta della quale portava sempre con sé la chiave. Quella valigia incuriosiva Cosette a causa dell'odore balsamico che da essa emanava. Quella valigia ormai non lo abbandonò più, la teneva sempre in camera sua ed era la prima e talvolta l'unica cosa che egli portasse con sé nei suoi traslochi. Cosette ne rideva e chiamava quella valigia l'inseparabile dicendo «ne sono gelosa». Del resto Jean Valjean ricomparve all'aria libera non senza una profonda ansietà. Scoprì la casa di Rue Plumet e vi si rintanò. Ormai era in possesso del nome di Hultime Fauchelevent. Nello stesso tempo prese in affitto altri due appartamenti a Parigi allo scopo di attirare meno l'attenzione di quanto avrebbe fatto se fosse rimasto nello stesso quartiere, di potersi assentare quando fosse necessario alla minima preoccupazione che lo prendesse e infine di non trovarsi più colto alla sprovvista come la notte in cui era così miracolosamente sfuggito a Javert. Quei due appartamenti erano molto meschini ed apparenza povera e si trovavano in due quartieri molto lontani l'uno dall'altro, uno in Rue dell'Ouest, l'altro in Rue dell'Homme Armée. Di tanto in tanto andava ora in Rue dell'Homme Armée ora in Rue dell'Ouest a passare un mese o sei settimane con Cosette senza portare con sé Toussaint. Si faceva fare i servizi dai portinai e dava a credere di essere un possidente del circondario che aveva un alloggio anche in città. Quell'alta virtù aveva a Parigi tre domicili per sfuggire alla polizia. Capitolo secondo Jean Valjean Guardia Nazionale Del resto a dir la verità egli abitava in Rue Plumet dove aveva sistemato la sua esistenza nel modo seguente. Cosette con la domestica occupava il padiglione aveva la grande camera da letto con le pareti dipinte il salottino con i tondini dorati e il salotto del presidente arredato con tappezzerie e ampie poltrone e aveva pure il giardino. Jean Valjean aveva fatto mettere nella camera di Cosette un letto a baldacchino in Damasco antico a tre colori e un vecchio e bel tappeto di Persia comprato in Rue Figue Saint-Paul da Mamma Gauchet e per attenuare la severità di quelle magnifiche anticaglie vi aveva aggiunto tutti i piccoli mobili allegri e graziosi delle fanciulle lo scaffale la biblioteca e i libri dorati l'occorrente per scrivere la cartella la carta asciugante il tavolinetto da lavoro intarsiato di madreperla l'occorrente per la toeletta d'argento dorato e la bacinella in porcellana del Giappone pendevano alle tre finestre del primo piano le tende di Damasco a fondo rosso a tre colori come quello del letto al pian terreno le tendine erano di tessuto comune per tutto l'inverno l'appartamento era riscaldato da cima a fondo egli invece occupava quella specie di bugigattolo da portinaio in fondo al cortile con il materasso sopra alla branda una tavola di legno bianco due sedie impagliate una brocca di maiolica alcuni vecchi libri sopra una mensola la sua cara valigia in un angolo e mai fuoco pranzava con cosette e in tavola c'era sempre un pane bigio per lui aveva detto a Toussaint quando l'aveva presa a servizio la padrona di casa è la signorina e voi signore aveva chiesto Toussaint stupefatta io io sono molto di più del padrone sono il padre cosette al convento era stata preparata alle faccende di casa e regolava la spesa che era molto modesta ogni giorno Jean Valjean prendeva cosette sotto braccio e la portava a passeggio a Luxembourg nel viale meno frequentato e tutte le domeniche a messa sempre a Saint-Jacques d'Europa perché era molto lontano quel quartiere era poverissimo ed egli vi faceva molte lemosine e in chiesa i poveri lo circondavano il che gli aveva procurato l'epistola dei Thénardier al signore caritatevole della chiesa di Saint-Jacques d'Europa conduceva volentieri Cosette a visitare gli indigenti e gli ammalati nessun estraneo entrava però nella casa di Rue Plumet la Toussaint portava le provviste e Jean Valjean andava egli stesso ad attingere acqua ad una fontana vicinissima al bastione la legna e il vino venivano riposti in una specie di scavo semisotterraneo tappezzato di Roccai vicino alla porta di Rue Babilon e che un tempo aveva servito da grotta al signor presidente poiché al tempo delle follie e dei casini non c'era amore senza grotta nella porta mascherata di Rue Babilon c'era una di quelle cassette a forma di salvadanaio destinate alle lettere e ai giornali ma siccome i tre abitanti di Rue Plumet non ricevevano né giornali né lettere l'utilità della cassetta un tempo propizia agli amori e confidenze d'un donnaiolo ottogato era limitata agli avvisi dell'esattore delle imposte e alle chiamate della Guardia Nazionale infatti in qualità di possidente il signor Fauch-Levant apparteneva alla Guardia Nazionale non avendo potuto sfuggire alle strette maglie del nuovo censimento del 1831 le informazioni assunte dal municipio a quel tempo erano risalite fino al convento del Petit Picpus una specie di nube impenetrabile e santa dalla quale Jean Valjean era uscito venerabile agli occhi della sezione municipale del suo quartiere e per conseguenza degno di prestare servizio di guardia tre o quattro volte all'anno Jean Valjean indossava l'uniforme e prestava servizio di sentinella con grandissimo piacere del resto poiché quello era per lui un travestimento dignitoso che pur confondendolo fra tutti lo lasciava isolato aveva da poco compiuto i 60 anni età dell'esenzione legale ma non ne dimostrava più di 50 del resto non voleva affatto sottrarsi al suo sergente maggiore e cavillare col conte di Lobo non aveva stato civile nascondeva nome e identità nascondeva età e tutto e come abbiamo detto era una guardia nazionale di buona volontà tutta la sua ambizione stava nell'essere simile al primo venuto che paga i suoi contributi quell'uomo aveva per ideale intimamente l'angelo ed esteriormente il borghese notiamo comunque un particolare quando Jean Valjean usciva con Cosette vestiva come abbiamo visto e quasi aveva l'aspetto di un vecchio ufficiale quando invece usciva solo di solito alla sera indossava sempre un camiciotto e un paio di calzoni da operaio con un berretto in capo che gli nascondeva la faccia era precauzione o umiltà tutte e due le cose a un tempo Cosette si era abituata al lato enigmatico della sua esistenza e notava appena le stravaganze del padre quanto alla Toussaint ella venerava Jean Valjean e trovava ben fatto tutto quello che egli faceva un giorno il suo macellaio che aveva intravisto Jean Valjean le disse è un uomo strano e la ribatte è un santo Jean Valjean Cosette e la Toussaint entravano e uscivano sempre dalla porta di rue Babylon a meno di non scorgerli dalla cancellata del giardino era difficile indovinare che abitassero in rue Plumet quel cancello rimaneva sempre chiuso e Jean Valjean aveva lasciato il giardino incolto affinché non attirasse l'attenzione ma a questo proposito forse si ingannava capitolo terzo folis ac frondibus quel giardino abbandonato a se stesso da oltre mezzo secolo era diventato incantevole e straordinario i passanti di quarant'anni fa si fermavano in quella strada a contemplarlo senza sospettare i segreti nascosti dietro le sue verdi e fresche cortine a quell'epoca più di un sognatore e ben più di una volta aveva lasciato penetrare uno sguardo o un pensiero indiscreto dietro le sbarre dell'antico cancello chiuso con un lucchetto contorto e traballante ancorato a due rinverditi pilastri muscosi e bizzarramente incoronato da un frontone di arabeschi indecifrabili c'erano una panca di pietra in un angolo una o due statue coperte di muffa qualche spalliera schiodata dal tempo che marciva sul muro intorno non più viali né aiuole e ovunque la gramigna partito il giardiniere la natura era tornata e prodigiosa avventura per un povero angolo di terra abbondavano le erbacce la festa delle violaciocche era splendida in quel giardino niente contrastava lo sforzo sacro delle cose verso la vita lì dimorava la venerabile fecondità gli alberi si erano abbassati verso i rovi i rovi erano saliti verso gli alberi la pianta si era arrampicata e il ramo si era flesso ciò che striscia sulla terra aveva raggiunto quanto fiorisce in aria quello che fluttua al vento si era acchinato verso ciò che si trascina nel muschio tronchi ramoscelli foglie fibre ciuffi viticci sarmenti spine si erano mescolati intrecciati sposati confusi la vegetazione in uno stretto e profondo abbraccio aveva celebrato e compiuto sotto l'occhio soddisfatto del creatore in quel recinto di 300 piedi quadrati il santo mistero della sua fraternità simbolo della fraternità umana quel giardino non era più un giardino ma un immenso intrico di piante ovvero qualcosa di impenetrabile come una foresta popolato come una città fremente come un nido oscuro come una cattedrale profumato come un mazzolino solitario come una tomba vivo come una folla durante il floreale quell'enorme cespuglio libero dietro il suo cancello e fra i suoi quattro muri entrava in amore nel sordo lavorio della germinazione universale trasaliva al sole nascente quasi come un animale che aspiri gli effluvi dell'amore cosmico e che senta salire e ribollire nelle vene la linfa di aprile e scuotendo al vento la sua prodigiosa chioma verde seminava sulla terra umida sulle statue consunte sulla scalinata cadente del padiglione fino al selciato della strada deserta fiori come stelle rugiada come perle fecondità bellezza vita gioia e profumi a mezzogiorno vi si rifugiavano mille farfalle bianche ed era uno spettacolo divino veder turbinare in fiocchi nell'ombra quella vivente neve estiva là nelle gaie tenebre della verzura una folla di voci innocenti parlava dolcemente all'anima e quello che aveva scordato di dire il cinguettio lo completava il ronzio la sera un vapore di sogno si liberava dal giardino e lo avviluppava lo coprivano una coltre di bruma e una tristezza celeste e calma l'odore così inebriante del caprifoglio e dei convolvoli usciva da ogni parte come un veleno squisito e sottile si sentivano gli ultimi richiami dei picchi e delle cutrettole che si assopivano sotto i rami si avvertiva quella sacra intimità dell'uccello e dell'albero di giorno le ali rallegrano le foglie la notte le foglie proteggono le ali d'inverno il folto dei rami che era nero bagnato irto e rabbrividente lasciava intravedere la casa invece dei fiori fra i rami e la rugiada sui fiori si scorgevano i lunghi nastri d'argento delle lumache sul freddo e spesso tappeto di foglie gialle ma in ogni modo sotto tutte le forme in ogni stagione primavera inverno estate autunno in quel giardinetto raccolto aleggiava la malinconia la contemplazione la solitudine la libertà l'assenza dell'uomo la presenza di dio e il vecchio cancello arrugginito sembrava dicesse questo giardino mi appartiene avevano un bell'esserci il selciato di parigi tutti intorno e a due passi i classici e splendidi palazzi della rue de varenne o la cupola degli invalides poco discosta e la camera dei deputati a breve distanza le carrozze della rue de bourgogne e della rue saint dominique avevano un bel circolare con sfarzo nelle vicinanze gli omnibus gialli marroni bianchi rossi potevano continuare ad incrociarsi sul quadrivio circostante in rue plumet c'era il deserto e la morte dei proprietari di una volta la passata rivoluzione il crollo delle antiche fortune l'assenza l'oblio quarant'anni di abbandono e di isolamento erano bastati a riportare in quel luogo privilegiato le felci i tasso barbassi le cicute le achillè le erbe alte le grandi piante marezzate dalle larghe foglie di tessuto verde pallido le lucertole gli scarabei gli insetti rapidi e inquieti a far uscire dalle profondità della terra e riapparire fra quei quattro muri quella sorta di grandezza selvaggia e tenace facendo sì che la natura avvezza a disorientare i meschini disegni dell'uomo e a prorompere sempre per intero là dove si diffonde tanto nella formica che nell'aquila giungesse a manifestarsi in un brutto giardinetto parigino con la stessa virulenza e maestà che in una foresta vergine del nuovo mondo infatti nulla è piccolo chiunque sia profondamente compenetrato della natura lo sa benché alla filosofia non sia consentita alcuna soddisfazione assoluta non più di circoscrivere la causa che di limitare l'effetto il contemplatore cade in estasi senza fondo a causa di tutte quelle decomposizioni di forze che sfociano nell'unità tutto contribuisce al tutto l'algebra si applica alle nuvole l'irradiarsi dell'astro giova alla rosa nessun pensatore oserebbe dire che il profumo del biancospino sia inutile alle costellazioni chi può calcolare la traiettoria di una molecola che ne sappiamo noi se le creazioni dei mondi non siano determinate dalla caduta di granelli di sabbia chi dunque conosce i flussi e i riflussi vicendevoli dell'infinitamente grande e dell'infinitamente piccolo le ripercussioni delle cause nei precipizi dell'essere e le valanghe della creazione un acaro ha importanza il piccolo è grande il grande è piccolo tutto è in equilibrio nella necessità spaventosa visione per lo spirito tra gli esseri e le cose vi sono prodigiose relazioni in questo inestinguibile insieme tra il sole e il pidocchio non c'è disprezzo gli uni hanno bisogno degli altri la luce la luce non porta via i profumi terrestri nell'azzurro senza sapere ciò che fa la notte distribuisce essenze stellari ai fiori addormentati tutti gli uccelli che volano hanno alla zampa il filo dell'infinito la germinazione si complica dello sbocciare di una meteora e del colpo di becco della rondinella che spezza l'uovo e mette di fronte la nascita di un verme con la storia di Socrate dove finisce il telescopio comincia il microscopio quale dei due ha una vista migliore a ognuno la scelta una muffa è una pleiade di fiori una nebulosa è un formicaio di stelle identica promiscuità ancora più sorprendente delle cose dell'intelletto e dei fatti della sostanza gli elementi e i principi si mescolano si combinano si sposano e si moltiplicano gli uni con gli altri al punto da far confluire nella stessa chiarezza il mondo materiale e quello morale il fenomeno si ripiega continuamente su se stesso nei vasti scambi cosmici la vita universale va e viene in quantità sconosciute amalgamando tutto nell'invisibile mistero degli effluvi usando tutto non perdendo un sogno di un sonno qua seminando un animale microscopico e là sbriciolando un astro oscillando serpeggiando facendo della luce una forza e del pensiero un elemento disseminata ovunque e invisibile tutto dissolvendo eccetto quel punto geometrico che è l'io riconducendo tutto all'anima atomo facendo sbocciare tutto in dio intricando nell'oscurità di un meccanismo vertiginoso tutte le attività dalla più alta alla più bassa connettendo il volo di un insetto al moto terrestre subordinando chissà non fosse altro che per l'identità della legge l'evoluzione della cometa nel firmamento al turbinio dell'infusore nella goccia d'acqua macchina fatta spirito enorme ingranaggio di cui il primo motore è il moscerino e l'ultima ruota è lo zodiaco e l'ultima ruota